Il calcio che entra in campo insieme agli avversari del Varese e in cui scendono in campo con il numero 1 Maurice Gomis con il numero 2 Jacopo Toscano con il numero 3 Alberto Rizzo con il numero 4 Papa Salvatore con il numero 5 il capitano Giorgio Torrotto con il numero 6 Grazie